700 famiglie di Bellari e Gemarina hanno beneficiato dei bonus spesa, 123 di queste, legate alla cosiddetta seconda tranche che dal 20 al 28 aprile ha visto arrivare al Comune un totale di 586 domande, un numero di richieste che ha imposto in sede di istruttori all'applicazione di ulteriori criteri di precedenza. Sulla base di questi sono stati esclusi coloro che già avevano ricevuto un bonus spesa in sede di prima tranche, dando inoltre a precedenza le domande collegate a nuclei numerosi con reddito basso e famiglie che accolgono al loro interno minore o disabili. Con queste linee guida spiegano è stata completata l'istruttoria sottolineando che questa seconda fase la consegna dei buoni è quasi ultimata, ha mosso una quantità di ticket spesa pari a 19.000 euro. Viene ricordato anche che nella cosiddetta prima fase le domande ricevute erano state 724, 583 delle quali accolte per altrettante famiglie che già a fine aprile hanno ricevuto la prima cospiega o quota di bonus spesa consegnati grazie alla collaborazione tra servizi sociali comunali e protezione civile. Complessivamente il volume economico legato ai bonus spesa erogati dal comune di Bellarige Marina è di più di 131.000 euro, cifra integrata da generose donazioni di privati e aziende del territorio, sia in denaro e nell'ordine delle migliaia di euro, sia sotto forma di centinaia di cesti alimentari e recapitate ai nuclei familiari più fragili.